Oddio Giorgia, abbiamo ammigliato una pizza che era buona, ma io ci vedo doppio. Ma io ci vedo unico. Eh, ma è stranissima questa sensazione. Le azzecati dove saranno tanti? Ma tu che facciai? Ma vedo due, due azzecati. Ma tu Giorgia, oh madonna santa, scompare. Se ne mangiate le azzecati? E io? E io no, io che fine faccio? Ma tu vieni su. Ah, perfetto, grazie, vi hai salvato. Era una pizza che... Oh madonna, la mia testa si è in pensione. Sto arrivando Halloween, state attenti. Che a noi di notte veniamo sotto casa vostra. E io però con questa cappella di musica cosa faccio? E io guarda, ho dei cappelli orribili, dove assolutamente andai da fare bucciera. Sì, una messa in piega. Ma spostatevi. Ma spostati tu, scusami. Mia, faccio i figli di di essere. Non mangio più la pizza con voi.